Papa Papa Ehi Papa guarda che scimmio C'è scimmio Papa guarda che scimmio C'è anche una leonessa Eh si va La gente è a favore Cosa è? Ehm 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 Dami con il telefono Dami con il telefono Dami con il telefono Basta Basta così Va bene così Basta Questo è? Ehm Il coccodrillo E' grosso Questo è? E' un pedone Fetta Come fetta Italiano? E' finita Ehi ciao Ciao amico 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 C'è pomiglio Catwoman Catwoman Spiderman Batman Flash Joker Sono tutti supereroi Ehi Ehi Gigi Gigi Puh Puh Ehm Solo dieci minuti Perché sto un attimo portando Mio padrone lo zoo Mia mamma sta fuori A te dove fu unico Me l'ha detto che doveva venire alle quattro e mezza Spira Ehm Dai Vai 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 Stai scendo di monte Anza Non ci vuole No AAH AAH OU No 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 Pfff Sì, sono leoni marini. Le sabbie dei canari. Ui, stai mangiando. Quello è scimpanzé. Rosetta. I macacchi. Ma come diceva tu? Ma il sedino è perso. Ma come diceva. Grazie a tutti.